Madonna ragazzi, madonna, madonna ragazzi, madonna, quanto calcio questa sera, quanto calcio questa sera, l'Inter vince 1-0 contro il Benfica ma potevano essere anche 10 gol dell'Inter mentre il Napoli perde 3-2 con orgoglio, con orgoglio secondo me contro il Real Madrid che ha quegli interpreti lì, ha quei singoli che alla fine poi ti fanno la differenza scusate ancora la voce ma purtroppo ancora non mi è tornata, comunque ragazzi allora partiamo dalla squadra italiana che ha vinto per poi andare a finire con il Napoli allora ragazzi, dell'Inter in poche parole è il primo tempo abbastanza equilibrato, non un Inter dominante rispetto al secondo che ha avuto una marea di occasioni però c'è da dire che ha avuto le più importanti a prescindere dal secondo me l'Inter perché comunque nel primo tempo c'è stata comunque quell'occasione di Dunfris che mette quel cross tagliato dove Mkhitaryan non ci arriva di tanto così, sempre Dunfris che di testa non riesce a guardare la porta su quella bellissima sciabolata di Cianaloglu Dunfris che poi a un certo punto si trova la palla in aria di rigore e ci abbatta quel pallone mandolato sopra la traversa diciamo che alla fine l'Inter ha avuto le occasioni migliori, anche se quella del Benfica ragazzi è stata un'occasione molto importante perché guarda l'attaccante lì come si chiama, adesso non mi ricordo, Arunes, vabbè comunque l'attaccante in poche parole l'Inter distratta in difesa perché è una rimessa laterale praticamente lunga, si trova in porta davanti a Sommer, bravo lì Sommer a scendere subito a fare un'ottima parata e a mandare in calcio d'angolo perché quali sono azioni veramente molto molto pericolose ma Benfica a parte appunto aver avuto quell'occasione lì su una rimessa laterale non ha fatto altro, nel secondo tempo l'Inter ha dilagato ragazzi, l'Inter è una squadra ormai di mentalità europea cioè dopo la semifilia, dopo la finale dell'anno scorso hanno acquisito sempre più fiducia in questi campi europei ed è una squadra europea, l'Inter è una squadra europea a tutti gli effetti, gioca bene a calcio quando si tratta di Champions League secondo tempo veramente non so quante occasioni ho contato, veramente non lo so, sempre Dunfris di testa che comunque all'inizio del secondo tempo è stato molto molto pericoloso, Lautaro Martinez che con quel call esterno ragazzi prende una traversa clamorosa che sta ancora tremando e l'azione comunque poi continua, anche Barella ha avuto un'occasione dove poi Trubin ragazzi ha fatto la sua parata ma non ha fatto solamente una Trubin, Lautaro Martinez che viene liberato splendidamente da Turam che con un tocco di suola, passaggio filtrante lo manda in porta ancora e prende un palo pieno quindi secondo legno per Lautaro Martinez, Mkhitary anche da fuori aria ha provato a calciare e la porta non inquadra veramente di poco e poi arriva il gol, arriva il gol di Turam, molto bella l'azione, palla sempre sulla fascia se non sbaglio per Dunfris che poi mette questa palla a dimorchio dietro e Turam ragazzi col destro non sbaglia, batte Trubin ma è l'unica volta in cui il portiere del Benfica si è fatto trovare in preparato, l'unica volta perché poi ragazzi ha sempre detto di noi Lautaro, sempre, sempre, mi ricordo che a tu per tu col portiere Lautaro tira e Turam praticamente spaccata fa la parata a un certo punto Lautaro riesce anche a superare, Turam è a porta vuota a calcia ma c'è l'occupo fantastico di Otamendi che è in scivolata comunque vicino a Lautaro Martinez, sempre un'azione simile diciamo al primo gol palla indietro a dimorchio, c'è questo comunque tiro di prima intenzione di Lautaro Martinez e anche lì ragazzi Trubin in spaccata allargando quelle gambe ha fatto una patta col piede veramente assurda, cioè Lautaro Martinez a un certo punto penso che l'abbia odiato il portiere del Benfica perché non l'ha fatto proprio segnare, gli ha parato il mondo anche a un certo punto verso il finale, Antonio Martinez riesce comunque a tenere la palla in gioco tira e c'è sempre quel piede di Trubin a dirgli di no l'unica pecca dell'Inter di questa partita è che con tutte le marie e le miriade di occasioni che ha avuto sarebbe solo più diciamo bello se avesse chiuso la partita perché poi comunque nel 1-0 nel finale il Benfica con quel colpo di testa bloccato da Sommer o comunque con quel tiro di Cabral vicino a nessuno della rete diciamo che il brivido finale per l'Inter c'è stato e avesse pareggio troppo il Benfica ragazzi sarebbe stata una beffa clamorosa perché per quello che ha creato ripeto l'Inter il pareggio sarebbe stato completamente immeritato ma 1-0 grazie all'ottimo Trubin l'Inter comunque è una squadra europea, mi piace perché nonostante l'1-0 non è che dice ok sono in vantaggio adesso difendo no, l'Inter è davvero a squadra europea ha continuato ad attaccare, 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 attrattassare l'avversario attrattassare l'avversario poi il gol per carità non è arrivato bravola del portiere è un po' di imprecisione di la Toro sottoporta questa sera però così si deve fare fai un gol, continui ad attaccare, attaccare, attaccare questa è la mentalità europea che mi piace complimenti all'Inter per la vittoria potrà vincere 8-9-0 al Benfica è andata veramente molto molto bene ed è un girone comunque tosto quello dell'Inter non è tosto quello dell'anno scorso perché ovviamente l'anno scorso aveva il Bayern Monaco e il Barcellona ma vive anche il Pilsen che era una squadra materasso in questo girone qua dell'Inter non ci sono squadre materasso perché comunque il Benfica può sempre essere una squadra ostica la società spagnola è sempre una squadra ostica e anche lo stesso Salisburgo ragazzi non è semplicissimo quindi più semplice dell'anno scorso come girone perché non è le due big però non è neanche la squadra materasso sono comunque squadre tutte rompicoglioni comunque l'Inter ha fatto un'ottima vittoria e ha meritato per quanto riguarda invece Napoli-Madrid ragazzi il Napoli orgogliosamente perde con orgoglio giusti gli applausi finali perché il Napoli ha dato tutto ha giocato anche bene secondo me e che dall'altra parte poi ci sono dei singoli che sono marziani perché io ho visto Jude Mellingham ragazzi Bellingham che giocatore è Bellingham cioè il vero è che Napoli è anche partito bene ecco il gioco di Politano è parato comunque da Kepa il gol su un cross dove è nata non la prende neanche di testa la prende di spalla la palla si impena va sulla traversa e lì c'è sempre lui Leo Ostiga che nel gioco aereo è fortissimo e batte comunque Kepa e trova il gol del 1-0 il problema è che poi ripeto il ramadire ha dei marziani l'azione di Rodrigo tu con il portiere bravo meta fa la parata però Vinicius quando ti punta e va in contropieno lo prendi quante volte è riuscito a saltare l'uomo a sterzare e a tirare poi per carità impreciso sottoporta in alcune circostanze però Vinicius è un mostro e poi arriva il gol del capitano arriva il gol di Lorenzo dove un po' molle quel passaggio Jude Bellingham subito col piedone a intercettare quel pallone ed era anche tu per tu col portiere ma lui non è egoista lui vede che Vinicius è messo meglio fa vita di tirare va per Vinicius poi Vinicius la sistema bene e con quel piattone tra le golette la piazza lì e fa un gol veramente molto bello Vinicius e quindi lì la Madrid pareggia poi arriva la giocatura di Bellingham ragazzi dove molto bravo comunque Kamaving e dargli quella palla in avanti poi Bellingham porta palla porta palla resiste anche comunque al contrasto di Anghissan non cade per terra supera Ostigard con un dribbling e col destro prima che intervenga un altro giocatore di Napoli in scivolata col piattone la palla la mette lì la palla la mette lì che giocatore è Jude Bellingham vent'anni secondo me a mani basse il giocatore più forte al mondo ad oggi anche più di De Bruyne ma per la giovanità che ha vent'anni veramente non so cosa può diventare quel giocatore è una cosa assurda Bellingham assurda nel finale Rosimena ha avuto un'occasione nel primo tempo di testa purtroppo quella palla non è abbastanza angolata per fregare Kepa e quindi c'è la parola di Kepa nel secondo tempo il Napoli la riprende con un calcio di rigore che ci può stare molto vicino comunque al contatto se non sbaglio al pallone prima di fare la mano di comunque Naccio prende un'altra parte del corpo e vuoi va sulla mano quindi in Serie A forse questi manco te li danno ma in Europa c'è un regolamento diverso il rigore viene dato base di Ischi che comunque tira un rigore ottimo perché Kepa intuisce il pallone ma la palla è così angolata che fa palo gol quindi il Napoli la ripareggia e da quel pareggio ragazzi il Napoli ha trovato anche fiducia perché poi è arrivata comunque la conclusione di Kvarraschela sulle salle rete è arrivata ancora la conclusione di Izzi e Ischi dove comunque Kepa fa la sua parata il Napoli sembrava quasi come se potesse anche vincerla quella partita lì poi però dall'altra parte c'è sempre un Rambardine che risponde c'è comunque quel tiro di Vinicius dove Meret fa una buona parata e sotto a primo vincente lì Bellingham di testa non trova la porta ma che poi è stata un'occasione importantissima e poi gli va il capolavoro capolavoro di Valverde per la potenza che ha messo su quel pallone poi ovvio anche sfortuna perché nel tiro di Valverde ragazzi c'è una direzione del difensore del Napoli poi la palla c'è la direzione anche di Meret che la tocca la palla va sulla traversa Meret che comunque è nato in salto torna gli tocca la palla una volta che si stampa sulla traversa e va a impattare sulla schiena di Meret e la palla poi va in rete quindi questo qua è autogol di Meret lì Meret sfortunato il Napoli sfortunato però va premiata comunque la giocata di Valverde che ha tirato una silurata Valverde ha tirato una silurata ma quanto andava quel pallone a quanto andava e ripeto purtroppo questi giocatori qua fanno la differenza le loro giocate singole fanno la differenza e oggi praticamente Ramadir ha vinto a quei singoli perché poi alla fine a livello di squadra generale il Napoli non è stato inferiore io le chiedi il video può finire qua se vi piacerebbe un bel like commentate questi miei commenti facciate un po' qualcosa di più di queste partite e iscrivetevi al canale ragazzi qui da me anche è tutto bella e iscrivetevi al canale